Passeggiata primaverile, al laghetto di Farra di Sonzo, Gorizia. Si tratta di un piccolo lago di acqua risorgiva, che ha raggiunto la dimensione attuale, alcuni decenni orsono, a causa della estrazione di ghiaia, per la costruzione della superstrada che porta a Gorizia. Le sue acque sono limpide, e ricche di pesci, in special modo, lucci e carpe, con facilità si notano delle bisce d'acqua del genere, Natrix. La popolazione locale Molto ricca e varia, la flora spontanea, attrazione di variopinte farfalle. Molto ricca e varia, la flora spontanea, attrazione di variopinte farfalle. Si possono notare fioriture di diverse specie di orchidea spontanea. Gymnadenia con Opsea. Orchis militaris. Ofris, apifera. Anacamptis murio. Anacamptis piramidalis. Cefalantera longifoglia. Neotinia tridentata. Ma i mesi di aprile e maggio, nelle ore pomeridiane, spesso, si incontrano dei cigni della specie, Kynosolor. La zona, si presta a delle belle passeggiate. La zona, si presta a delle belle passeggiate. ‑‑